Sì, fondamentale perché questo è il primo passaggio per poter avere delle possibilità di qualificazione contro una Lettonia che anche loro hanno dei giocatori che sono venuti dall'estero e in questo periodo natalizio quindi si aggregeranno all'ultimo mentre invece l'Italia è riuscita a ritrovarsi fin dal 27 e è stata insieme quindi credo che stiamo bene, ci siamo preparati bene e quindi un lungo periodo adesso c'è da smaltire un po' la fatica, da trovare semplicemente il gioco che abbiamo preparato in questi giorni. Sì, avete lavorato ormai da diverso tempo perché avete giocato la Michemona in Svizzera il 29 dicembre poi direttamente qui a Chieti nel periodo di fine anno, ritmo serrato per avvicinarsi a questa partita? Sì, da un punto di vista del ritiro e degli allenamenti sicuramente è stato intenso e serrato purtroppo è venuta meno la classica preparazione con le amichevoli ne abbiamo fatta una con la Svizzera, ne dovevamo fare due ma non è facile di questi tempi trovare nazionali o squadre che possano giocare un po' per le feste natalizie, molti giocatori sono a casa quindi anche squadre di club non si possono prestare a una partita ma le nazionali non si muovono per precauzione aspettando appunto l'impegno ufficiale. Che Italia dobbiamo aspettarci da un punto di vista tattico e da un punto di vista di gioco? Una Italia che dovrà giocare ad alto ritmo, in grande velocità perché diciamo così la Lettonia ha degli elementi che sono grandi, sono fisicamente imponenti per cui magari meno abili nella corsa. Sarà un'Italia che in maniera difensiva dovrà ragionare sia sulla Lettonia come collettivo ma anche come nell'individualità di Cristopanz perché sicuramente è un giocatore atipico quindi stiamo preparando anche le alternative difensive che non avevamo mai attuato. Poi un'Italia molto giovane perché molti dei giovani che abbiamo convocato quasi proprio per visionarli, quasi proprio per fargli sentire l'area della nazionale si sono dimostrati all'altezza e quindi potranno giocare.